Signori, agenzia Riccardo Finzi praticamente detective, Renato Pozzetti un bel filmettino bello, oddio, niente di eccezionale, voto 6 oserei dire, le battute sono vecchiote, per carità è un film del 79 quindi ci può anche stare che dopo 40 anni, però niente di che, qualcosa di carino ma niente di che, a parte vedere le vecchie automobili girate a Milano si vedono dei modelli che non si vedono più e basta così, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, se l'ho già detto, ciao ciao